Seconda carta invece? Seconda carta è una carta rossa, devo dire mentre la commento che mi era venuta la voglia di fare un qualcosa di molto simile a quello che ha fatto Tony, poi in realtà ho detto no, facciamo delle strategie giate anche per le persone a casa, però quindi si tratta di una carta rossa in particolare sul Fuzzimib, quindi sull'indice italiano. Ok, allora vediamone i livelli perché è interessante, finora abbiamo visto fra te e Tony indici massimi storici e 4 carte short sugli indici di borsa, quindi andiamo a vedere i livelli in questo caso. Sì, qui le motivazioni, allora intanto ti do i livelli, i livelli operativi sono questi che vediamo in sopraimpressione, quindi 24.420 per quanto riguarda il livello di ingresso, 24.600 per quanto riguarda lo stop loss e il nostro target price lo mettiamo a 24.180. Stiamo parlando dei prezzi legati al future, non legati allo spot, c'è una differenza di 260 punti, quindi se volete guardare invece quello che succede sull'indice dovete aggiungere a questi livelli che vi ho detto, circa 260 punti. Il ragionamento è uguale a quello che ha fatto Tony, nel senso siamo in prossimità dei massimi, l'indice che secondo me presenta le maggiori fragilità in questo momento è l'indice italiano, se dovesse esserci uno storno, l'indice italiano stornerebbe più degli altri, almeno questa è la mia convinzione. I mercati hanno bisogno di respirare, io non sono un disfattista, ma sono dell'idea che secondo me se i mercati dovessero scendere, insomma questo è un trade che può tranquillamente andare in porto, il target non l'abbiamo messo troppo distante, siamo nell'ordine dei 200-300 punti di target price, quindi è qualcosa che è assolutamente raggiungibile, quindi assolutamente l'idea è un trade contro trend perché siamo arrivati sui massimi e i mercati necessitano di rifiattare.